Eccoli qui, niente più il latte di capra per ammorbidire i croccantini, ma solo patè e croccantini morbidi. I piccoli bici non crescono, la mano non lo controlla. Tutto bene amore? È una mano dolcissima e affettuosissima, anche molto giovane, che appresa molto le coccole. La sua zampina è ancora storta, e oggi provvedremo a portarlo. Deve essere il caso di fare una steccatura. Finalmente un po' di pace per mamma e bimbi. La sua zampina è un po' di pace per ammorbidire i croccantini, ma solo per ammorbidire i croccantini. La sua zampina è un po' di pace per ammorbidire i croccantini, ma solo per ammorbidire i croccantini. la spaventina è un po' di pace per ammorbidire i croccantini. Inslama in piedini, la pappà, quel che vedo. Ehi facendo l'escalato. Grazie per la visione!